Il Vallo di Diano ad oggi nel nostro territorio sta affrontando il bilancio più grave di questa emergenza. La situazione dei contagi per il comprensorio valdianese è cresciuta in poco tempo, situazione che ha spinto il governatore De Luca a inviare l'esercito sul territorio al fine di incrementare i controlli. Al momento si contano più di 50 casi, precisamente 53 sparsi tra Sala Consilina, il paese più colpito, Atena Lucana, Polla, Sassano, Caggiano, Teggiano, Sant'Arsenio, Buonabitacolo, Montesano ed Auletta. Quasi tutti i casi sono legati a contatti diretti e non diretti con il focolaio creatosi da raduni religiosi, svolti poco meno di un mese fa nel Vallo di Diano. Nella giornata di ieri, al già grave bilancio, si sono aggiunti ulteriori casi, tra cui due contagi a Sala Consilina, due ad Auletta ed uno a Montesano sulla Marcellana, uno dei due positivi al Covid-19 di Auletta è il vice sindaco Antonio Adesso, negativo al primo tampone, ma nel secondo test risultato positivo. Per il Cilento interno invece due nuovi casi di contagio per Vallo della Lucania e Sessa Cilento. Il soggetto positivo di Vallo è una donna che ha avuto contatti con la pediatra che operava a Pollica, a Shea e a Casalvelino, ma residente a Napoli, che circa una settimana fa è risultata positiva al coronavirus, mentre per Sessa Cilento è un familiare del 71enne ricoverato al San Luca di Vallo della Lucania.